Bentornati fratelli di tuberanza in un nuovo episodio su Brawl Stars. Oggi devo scusarmi con il mio club, ma prima di spiegarvi perché vi invito a lasciare un bel pollicione all'insù per supportare questi video. Il perché devo scusarmi ragazzi è estremamente evidente. Guardate il mio club, è pieno di persone fortissime, attivissime e con un botto di coppe. Fino ad arrivare in fondo dove... ci sono io. Dove nonostante io sia il presidente e fondatore di questo club, sono il meno attivo, il più scarso e quello con meno coppe. E questo ragazzi mi dispiace estremamente, ma purtroppo i miei impegni mi impediscono di essere tanto attivo su Brawl Stars. Ma vi prometto e ve lo giuro, croce sul cuore, che da questo momento sarò ancora più attivo su questo gioco. E cercherò di raggiungere le 6.000 coppe, il prima possibile, per sbloccare 8-bit. Che a quanto pare è estremamente bello, perché è bellissimo, e anche estremamente forte. Cercherò di sbloccarlo, guardate qua raga, mi ero messo da parte la mega cassa, la cassa enorme, perché pensavo che il nuovo Brawler era da sbloccare nelle casse e non nel cammino dei trofei. Però vabbè, andiamo a giocare raga. Già che ci siamo, iniziamo adesso a fare la nostra falcata o cavalcata verso le 10.000 coppe. Dai, utilizzo Bull perché la mappa della sopravvivenza è estremamente Bullone. No, nel senso, adatta Bull, Bullone... No, vabbè, sta cazzata me la dovevo tenere, lo so, lo so, lo so, lo so. Eh, scusatemi, regà, a me quando mi sento in mera di dire queste cazzate le dico e basta. Allora, aspettate un attimo, eh, perché qua c'è un altro Bull. Allora, noi aspettiamo un secondino. Vedi, 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 guarda, 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 guarda lì. Guardali, guardali, lo vedi? Noi siamo il Condor! Noi siamo gli avvoltoi! Mamma, se mi pio questo, porca miseria. Eh, mo? Wow, come l'ho scoppiato, boys, avete visto? Pum! Che poi, raga, molte persone mi hanno detto in privato che seppure nei commenti qualcuno mi dice sei scarso, in realtà dicono che io sia abbastanza... abbastanza bravo. Ok, dovrebbe essere finito l'effetto della bibita. Però il Bull è rimasto qua dentro, raga. No, è appena uscito. Pum! 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 Mamma mia, raga, Bull dà delle soddisfazioni atomiche. Dà delle soddisfazioni atomiche. Per carità, ho giocato un po' da infame PDM, pezzo di me. Però, in queste mappe, raga, se non giocate voi così, ci sono gli altri che giocano così e di conseguenza poi vi fanno arrabbiare perché non riuscite a vincere. Qua ci sono due belle casse che noi ci andiamo belle, belle a prendere. Sotto mi pare di averne viste altre due. GG. Poi io ce l'ho a livello esagerato, Bull. Non mi ricordo se ce l'ho tipo all'8. Devo controllare. 8, 9, una cosa del genere. Però, prima di sbloccare tutte quelle casse, vorrei che almeno un brawler io lo porti al livello massimo così da magari sbloccare le tecniche. Allora, lì c'è uno. Questo non lo pioio io, fratello. Minchia, scuogliato proprio. Mamma del carmine! Tradotto in italiano. Uh! E se mi metti un'altra bibita qui? Non la pio, non la pio, non la pio. Ah! Sei caduto nella mia trappola, Bomber! Porca miseria, questo che mi scappa. Vabbè, 9, 9, 1. Però il rischio era che mi finisse proprio lì sotto, sotto di lei. Ma è complimenti, Piper! È una mira... E dai! Dai, è così! Non uso la ulti per scappare, ma la uso per pushare. GG per Bulltube. Grado 18. Aspettate un attimo, ma che livello ce l'ho io, questo? Fatemi capire. Livello 8. Livello 8. Buono. Estremamente buono. Sì, sì. Poi guardate, regà, guardate quanti brawler c'ho da fare il level up. Eh. Devo riuscire a maxare il mio account a tutti i costi. Cioè, voglio tutti i brawler e li vorrei tutti al grado 20. Lo so, è molto difficile, richiede molto tempo, ma so che ce la possiamo fare. Nessuno va al centro? Buono. Sono riuscito a calcolare bene i colpi. Allora, quello ha sparato già tre volte. Non può sparare di nuovo. Bene mio. Mierda. Eh, qua mi dice male. Qua mi ha detto estremamente male, raga. Dovevo forse scappare da un'altra direzione. Purtroppo abbiamo beccato quel colt con un botto di power up. Ma non importa, non importa, raga, perché due vittorie su due vanno bene. Poi comunque abbiamo preso più due coppe. GG per noi. Qui abbiamo fatto una buona giocata perché abbiamo calcolato i colpi sparati del nostro avversario e poi lo abbiamo pushato. Vedete, dovete tenere conto di un botto di cose su sto gioco. E poi, raga, io devo essere sincero. Eh, Brawl Stars è il mio gioco mobile preferito. Mamma mia, raga. Ti squaglio! Scusate. Devo tornare, devo tornare in me. Perdonate. E mi dispiace che in questo episodio io debba utilizzare principalmente Bull, raga, perché Bull è... ve lo ripeto, in questa mappa è estremamente facile. Cioè, è facilissimo fare coppe con Bull qua. Chi va al centro? Ok, mi faccio gli affari miei. Devo correre via, raga. Ah... Minchia, che paura. No, 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 no! Dai! Ma dai, raga, avevo fatto una cosa atomica, però. Porca vacca. No, il meno uno qua non me lo meritavo. Sono stato estremamente coraggioso, ho pushato tutti. Vabbè. Guardate, sapete che vi dico? Voglio provare a farmi una partita qui con... con chi? Boh, non lo so. Corvo mi piace davvero un botto, raga. Corvo è... il mio personaggio preferito. Non è la mappa di Corvo, assolutamente no, però... dai, ci proviamo lo stesso. Magari rompiamo le scatole a qualcuno. mi sono salvato per le penne, nel vero senso della parola. mi serve un power up. Oh! non lo so, io lo sapevo, io lo sapevo. Io lo sapevo come la morte che lei era lì. Lo sapevo. Eh beh, però mi sono beccato otto coppie con Corvo. Beh, l'ho capito. Buttale via. Buttale via otto coppie con Corvo. Vedete, raga, comunque, mi faccio l'ultima con Bull e ce la faccio, sì. Vedete, raga, comunque, se uno ci perde un po' di tempo e ci sta dietro, fare coppie su Brawl Stars non è poi così difficile o impossibile. Dai che ti sei finito i cazzotti, dai. Ma no, ma non ho preso nemmeno un power up, me li ha tolti tutti. Brutta bastarda, maledetta. Sarai, sarà il mio obiettivo. Sarai il mio obiettivo per tutta la partita. Amici sportivi, amici sportivi. Ti saluto. Ma che vuoi da me? Porca miseria, rosa con sei power up. Eh, raga, se non prendo il biberone adesso. Allora, proviamo a fare questa... Ok, come l'ho detto, volevo fare la trappola. Ok, ciao, ho perso. Siamo rimasti in tre. Non potevo fare di meglio, ragazzi, non so cosa avrei potuto fare. Lei aveva lo scudo che gli ripara da 8.900 mila danni, quindi... Comunque 8 coppe è molto GG, eh, cioè non è... Non sono affatto male, però porca di quella vacca. Dai, l'ultima partita, regà. Bisogna, quando fate magari contro qualcuno per sfidarvi sulle casse, bisogna che contiate i colpi sparati dagli avversari. Eh, mo' quello? Mo' quello che gli dico? gli era finito in tempo. Ok. Biberone mio. Dove sei? So che sei qui dentro. Porca vacca, corro. Eccolo lì. Scoppiato. Perché non va a zardare a prendere sto succhetto qua? Lo prendo io. Scontro finale. Ok. Non so quanti power up possa avere il nostro avversario, ma... Dove cavolo sei? È qua. Qua. Ma perché vuoi giocare? Sei sicuro? Boom, boom. GG. GG per noi. Hai vinto. Ebbè, è così. Allora, ragazzuoli, cosa devo dirvi? Abbiamo macinato un po' di coppe in questo episodio, ci siamo presi un po' di bauli e diciamo che la nostra rincorsa ad 8-bit e il nostro recupero di coppe per il club inizia oggi. Noi ci vediamo con i prossimi video. Sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!